buongiorno ragazzi e bentornati continuiamo a parlare della matematica fondamentale per capire la fisica in questo video conosceremo la dipendenza lineare la proporzionalità inversa tra grandezze e la proporzionalità quadratica diretta buona visione buongiorno ragazzi nel video precedente abbiamo ripassato che cosa sono le proporzioni le percentuali e abbiamo affrontato bene la proporzionalità diretta in questo video faremo invece la dipendenza lineare le grandezze inversamente proporzionali e le grandezze con proporzionalità quadratica diretta iniziamo subito a parlare della dipendenza lineare e partiamo dal suo grafico e vediamo poi definizione ed esempio qui abbiamo una retta che non passa per l'origine taglia l'asse delle y che è la variabile dipendente nel punto q sull'asse delle x abbiamo la variabile indipendente e la pendenza la chiamiamo m definiamo se due grandezze sono in relazione di dipendenza lineare la loro equazione del tipo y uguale a mx più q e la rappresentazione è una retta che non passa per l'origine facciamo un esempio l'iscrizione ad una palestra costa 40 euro e il prezzo di ogni ingresso è di 10 euro vediamo un attimino di rappresentare prendendo come x il numero degli ingressi e come y il costo totale vediamo che anche se faccio 0 ingressi io devo pagare un costo di iscrizione di 40 euro con un ingresso vado a pagare 50 euro con due ingressi 60 e così via quindi vedete che è una retta che parte quando x uguale a 0 dal mio q che risulta essere 40 e poi cresce secondo l'equazione che abbiamo appena visto facciamo ora invece la conoscenza delle grandezze inversamente proporzionali partiamo subito da un disegno abbiamo un'area di 48 e variano le due dimensioni del nostro rettangolo facciamo uno schema dove x è la base y è l'altezza e y per x mi dà ovviamente l'area vediamo che se la base è 1 e l'area deve essere 48 l'altezza sarà proprio 48 se la base 2 l'altezza deve essere 24 per avere l'area 48 se la base 3 l'altezza deve essere 16 se la base 4 l'altezza deve essere di 12 quindi l'area è sempre 48 e vedete che se aumenta una delle due dimensioni deve diminuire l'altra le grandezze che seguono questa relazione si dicono inversamente proporzionali definiamo quindi due grandezze si dicono inversamente proporzionali se il loro prodotto è costante quindi y per x uguale a k con k costante se partiamo dalla relazione x per y uguale a k possiamo ricavare y che è dato da k fratto x da qui arriviamo all'equazione della proporzionalità inversa due grandezze x e y inversamente proporzionali soddisfano un'equazione del tipo y uguale a k fratto x con k costante come nella proporzionalità diretta le x e le y sono legate ed esattamente se guardiamo il disegno possiamo poi definire questo legame se noi circondiamo di viola il 4 e andando nell'altra figura lo raddoppiamo per 2 arriviamo a 8 vedete che la seconda dimensione da 12 si divide per 2 va a 6 se ripartiamo ancora da 4 moltiplichiamo per 4 andiamo a 16 la seconda dimensione da 12 va a 3 perché viene divisa per 4 quindi possiamo dire che due grandezze si dicono inversamente proporzionali se raddoppiando triplicando una delle due grandezze l'altra diventa la metà un terzo eccetera analogamente se una grandezza diventa la metà e un terzo eccetera l'altra si raddoppia si triplica eccetera facciamo un altro esempio di grandezze inversamente proporzionali sono legate da proporzionalità inversa la densità e il volume se considero una massa m di ossigeno che inizialmente occupa un certo volume v densità è uguale a massa fratto volume se il gas si espande fino a occupare un nuovo volume doppio 2v la densità si dimezza diventa di fratto 2 vediamo ora la rappresentazione grafica della proporzionalità inversa negli assi cartesiani segniamo il lato del rettangolo le dimensioni dell'altro e vedete che la rappresentazione grafica di due grandezze inversamente proporzionali è un ramo di perbole perfetto ragazzi riassumiamo quello che abbiamo visto fino qua due grandezze x e y sono inversamente proporzionali se il loro prodotto è costante x per y uguale a k soddisfano la relazione y uguale a k fratto x a raddoppiare triplicare di x y si dimezza diventa un terzo e la rappresentazione grafica della relazione che le lega è un ramo di perbole perfetto ragazzi diciamo che questo è tutto quello da sapere per poter iniziare gli esercizi prima vediamo le grandezze con proporzionalità quadratica diretta e procediamo sempre partendo da un disegno scegliamo come x il lato di un cubo y la superficie totale facciamo il nostro schemino nel nostro schemino vediamo come x il lato vediamo di calcolare x quadro che è la area di una faccia l'area totale e poi y fratto x quadro vedete che se il lato è 1 il suo quadrato è 1 moltiplico 1 per le 6 facce del nostro cubo e ottengo 6 diviso 1 uguale a 6 se il lato è 2 il lato al quadrato è 4 tutta l'area totale 6 per 4 che è 24 e 24 diviso l'area di una faccia mi da ancora 6 se il lato è 3 il quadrato è 9 l'area è 6 per 9 che fa 54 otteniamo ancora 6 facendo y fratto x2 riscriviamo qua noi abbiamo scelto x come spigolo che viene scelto liberamente e quindi è la variabile indipendente la y è l'area che dipende ovviamente dalla lunghezza dello spigolo e quindi è la variabile dipendente scriviamo quindi la definizione due grandezze sono legate da proporzionalità quadratica diretta quando il rapporto tra una grandezza e il quadrato dell'altra rimane costante quindi y fratto x quadro è uguale a k con k costante dalla relazione y fratto x quadro uguale a k ricaviamo come sempre y e in questo caso y uguale a k per x quadro possiamo quindi scrivere l'equazione della proporzionalità quadratica diretta due grandezze si dicono in relazione di proporzionalità quadratica diretta se soddisfano un'equazione del tipo y uguale a k per x 2 seconda definizione si dice che due grandezze x e y sono legate da una relazione di proporzionalità quadratica diretta se moltiplicando la x per 2 per 3 per 4 la y viene moltiplicata per 2 al quadrato 3 al quadrato 4 al quadrato analogamente se la x diventa un mezzo un terzo un quarto allora la y diventa un quarto un nono un sedicesimo vediamo anche in questo caso la rappresentazione grafica della proporzionalità quadratica diretta rappresentiamo i nostri due assi rappresentiamo il lato dei nostri cubi e le y possiamo quindi dire che la rappresentazione grafica di due grandezze tra cui c'è una proporzionalità quadratica diretta è un arco di parabola adesso riassumiamo tutto quello che abbiamo imparato su quest'ultima relazione due grandezze x e y sono in relazione di proporzionalità quadratica diretta se valgono le quattro cose il rapporto tra un grandezza e il quadrato dell'altra è costante quindi y fratto x quadrato uguale a k soddisfano quindi la relazione y uguale a k per x quadrato moltiplicando x per 2 per 3 per 4 la y diventa moltiplicata per 2 alla seconda 3 alla seconda 4 alla seconda la rappresentazione grafica della relazione che le lega è l'arco di parabola perfetto ragazzi abbiamo tutti gli strumenti per poter partire e iniziare il meraviglioso viaggio attraverso la fisica se avete dei dubbi iscrivetevi iscrivetevi al mio canale continuate a seguirmi e intanto vi auguro buona fisica grazie a tutti grazie a tutti